a 15 traffico congestionato per lavori tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni sulla FIPILI per lavori in direzione mare due chilometri di coda tra Firenze e Scandicci in direzione Firenze rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci a Firenze in Borgo Santi Apostoli chiusa la strada da Via Por Santa Maria a Vicolo dell'Oro Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze buon viaggio